Direi che bonifichiamo il territorio economico e finanziario delle due province da aziende e da imprenditori, che imprenditori non sono, ma come ho detto prima, sono più prenditori, che hanno fortemente inquinato la concorrenza leale tra aziende e penalizzato fortemente gli imprenditori e i cittadini da cui hanno sottratto risorse. Non chiamiamolo imprenditore, ma prenditore, per guardia di finanze, e procure questa la definizione che meglio si attaglia a Mauro Mattucci, non nuovo alle cronache giudiziarie perché già al centro di due indagini del 2015, Bancomat e Viribus Unitis, che portarono alla luce una truffa ai danni dello Stato per oltre 100 milioni di euro. In poco più di dieci anni si sono arricchiti, frodando il fisco, frodando le banche, sottraendo risorse al territorio, un importo che su queste realtà economiche, capite, è di straordinaria rilevanza. I sequestri preventivi di questa mattina, ben 16 milioni di euro di valore nominale, ma sul mercato corrispondenti ad almeno il triplo, sono proprio conseguenza delle due inchieste precedenti che hanno ricostruito minuziosamente le ricchezze accumulate fra il 2005 e il 2015 da Mattucci. Per questo sono scattati sigilli a 17 immobili di Montesilvano, tra cui una villa lussuosissima, 18 partecipazioni societarie e 14 complessi aziendali, tra cui il locale della Riviera Nord di Pescara Tortuga e il centro commerciale Cuore Adriatico di Civitanova Marche. Voglio sottolineare la determinazione e la personalità dell'ufficio della Procura di Chieti e del Tribunale di Chieti che possiamo considerarli una sorta di apripista, perché per la prima volta un tribunale abruzzese ha adottato il provvedimento della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un soggetto che ha ritenuto fiscalmente pericoloso. Come voi sapete le misure di prevenzione nacquero nel 1982, soprattutto per aggredire i patrimoni dei soggetti gravemente indiziati di reati, in qualche modo riconducibili alle associazioni criminali di tipo mafioso. Mattucci è accusato di false fatturazioni, indebite, compensazioni fiscali ed evasione fiscale. Presto, assicura il procuratore di Chieti Francesco Testa, la procura chiederà al Tribunale la confisca dei beni. Sì, a brevissima, appena eseguite le operazioni di sequestro, completate le operazioni di sequestro, inoltreremo al Tribunale la richiesta di confisca del patrimonio in sequestro.